Per giallo carta, i sei migliori colpi, il mare non sa mentire. Un racconto di Mario Trapletti. Legge Luca Violini. Dio me ne scampi dal volerti insegnare il mestiere, Doc, ma ho paura che qui ci sia proprio poco da inventarsi. Ci troviamo in presenza di un classico caso di infarto. Me lo confermi? Mi permetterai di aggiungere solo fulminante e la tua diagnosi non farebbe una piega, signor ispettore. Mentre i due poliziotti si scambiavano questi convenevoli, scarsamente in sintonia con la solennità del momento, Jack O'Neill giaceva sprofondato nella sabbia quasi stesse dormendo. Ma se stava dormendo, era un incubo impazzito quello che aveva preso a calci il suo cuore. La smorfia, che gli manometteva i connotati, non lasciava dubbi. L'aveva vista in faccia, la morte, e non doveva nemmeno essersi rifatta il trucco quel giorno. Una montagna di carne e lardo squagliati, il ricordo del quintale ormai sbiadito nel tempo, era il tumolo naturale per quel cuore finito sotto un rullo compressore. Vederlo così ricordava certe immagini di cetacei morti per essere finiti inspiegabilmente spiaggiati. In questo caso, però, il balenottero proveniva da terra e non dal mare. L'ispettore Barrett, appena giunto da Stornoway, in compagnia del medico legale di un paio di suoi uomini, si stava lasciando andare a simili considerazioni di sapore vagamente disneyano quando scorse poco distante una rappresentante del gentilsesso. Una di quelle notò al volo che il suo vice Driscoll, celebre per ignorare perfino l'esistenza del termine galateo, definiva una mammifera di prima classe. Era lì per chiedersi come fosse possibile che avesse scorto prima il cadavere e solo in un secondo tempo quel gioiellino in carne e ossa, quando si ricordò di essere dotato di un forte senso del dovere. Il che spiegava tutto e lo rimetteva in pari con la sua indiscutibile virilità. Mulligan, medico del pronto intervento, giunto sul posto poco prima di loro, gli bisbigliò quasi fosse un segreto «Quella è la moglie del morto, la vedova», in altre parole. Definizione ineccepibile, pur nella sua leggera crudezza. La donna, molto giovane, apparteneva a quel genere di donne che non passano inosservate e nemmeno immerse in una folla da stadio. A un maschio anche non particolarmente arrapato sarebbe potuto venire il mal di testa prima di poter decidere se di lei lo mandava più in tilt il viso oppure il corpo. «Da infarto», pensò Barrett, mordendosi subito i neuroni e rimproverandosi per la scarsa delicatezza. Nella vita di tutti i giorni poteva essere benissimo una top model o un'attrice, ma in quel preciso momento giaceva accasciata sopra una sedia pieghevole. Nonostante ciò, anche a un occhio poco avvezzo agli atelier di moda, non sarebbe sfuggito alla malia del suo elegante e ricercato abbigliamento sportivo. La luce che filtrava a sprazzi dai densi nuvoloni rendeva ancora più infiammate le sfumature della sua bellezza, della quale la divina mostrava tutta la consapevolezza anche in tale frangente. Sulle ginocchia, con studiato pudore, reggeva un cappello quasi da amazzone. L'ispettore non ricordava ritratti femminili con altrettanta intensità cromatica. Difficile sottrarsi a quel fascino, anche ricordandosi del suo recente mutamento di stato civile. Distolse per un attimo lo sguardo dalla venere in lutto, prima di rivolgerle la parola con la dovuta deferenza, ma senza esagerare con l'altrettanto dovuto calore umano. «Signora...» attaccò senza sapere come proseguire, accentuando in tal modo l'imbarazzo che faticava a dissimulare del tutto. «Juliette Breton», gli rispose una voce che pareva miele screziato di Fernet. «Dannato fumo, quanti usignoli trasformava in corpi!» «Signora Breton, lei è... era la moglie di... dell'uomo che giace morto davanti a noi?» Rispose con un lieve cenno affermativo del capo. «Le mie condoglianze per quel poco che valgono!» Valevano talmente poco che la fresca vedova non le ritenne degne nemmeno di un banale grazie. Certo, era anche impensabile aspettarsi che gli buttasse le braccia al collo e si sciogliesse in un fiume di lacrime. Comprendo il suo stato d'animo, ma purtroppo lei capisce il mio mestiere. Se la sente di raccontarmi quello che è successo...» La signora Breton, senza degnarlo di uno sguardo, tirò su col naso un paio di volte. Scosse i lunghi capelli neri con un brusco scatto della testa. Diede per qualche istante l'impressione di sentirsi smarrita, ma durò poco. Quando parlò, lo fece con voce calda e sommessa. «Già che io siamo... eravamo in viaggio di nozze. Sull'isola di Harris?» Barrett non poté dissimulare lo stupore e l'incredulità di fronte a quella affermazione. «Anche sì». Continuò senza raccogliere. «La nostra meta era l'arcipelago delle ebridi, interne ed esterne. Prima di arrivare qui abbiamo visitato varie zone della Scozia. Devo dirle quali...» L'ultima frase non pariva esente da ironia. «No, grazie. Almeno per il momento». Jack amava questi luoghi per vari motivi. Li aveva sempre frequentati fin da ragazzo. Tra l'altro sono la patria dei suoi whisky preferiti, i torbati. «Palato fine!» sentì di dover dire l'ispettore quasi a consolare la vedova, che dando prova di grande coerenza, non raccolse. «Siamo sbarcati dal traghetto ieri, dopo pranzo, e ci siamo sistemati in hotel a Stornway. Questa mattina, dopo il breakfast, mio marito mi ha detto, con un entusiasmo quasi infantile, «Tra poco ti porterò a vedere una delle spiagge più profonde che si possano vedere, enorme e per giunta sconosciuta e più». Abbiamo percorso una strada stretta e tortuosa, che si snodava in un paesaggio roccioso senza presenza di tracce umane. Affascinante e lugubre nello stesso tempo. Jack era a tratti allegro, guidava fischiettando nonostante la strada impegnativa. A tratti invece si incupiva, si isolava in sé stesso. Dopo l'ennesima curva ci si è parata davanti una magnifica spianata di sabbia, resa ancora più sconfinata dalla bassa marea. Il sole, anche se pallido e zoppicante, ne faceva una prateria adorata senza ombra di presenza umana. Nessuno. Ho sentito Jack borbottare fra i denti, «La scenografia perfetta per un film dell'orrore». Le confesso che, forse suggestionata dalla sua affermazione, anch'io mi sono sentita percorrere da un brivido gelito. Poi lui mi ha detto, brusco ma con una venatura di emozione, «A costa!» Si è fatto silenzioso. Pareva inseguisse un pensiero che non voleva lasciarsi prendere. È sceso senza nemmeno chiedermi di seguirlo. Se ne stava lì, immobile, appoggiato alla macchina, schermandosi gli occhi con la mano destra. Fissavo un punto lontano, qualcosa che solo lui vedeva. Di colpo si è messo in movimento, con un'agilità insolita per lui. Muto, sempre come se io non fossi lì. L'ho chiamato. «Jack, Jack, firmati! Dove vai? Che succede? Non puoi correre così!» Ma non mi ha degnato di una risposta. Posso sbagliarmi, ma sono certa che nemmeno mi aveva sentito. Allora mi sono fatta coraggio sfuggendo alla malia di quell'atmosfera che stava diventando da incubo. Sono scesa e l'ho seguito nella sua marcia quasi notica verso un punto per me indistinto. «La macchina, certo! Dove si trova!» Le chiese come sopra pensiero Barrett. Quasi seccata per l'interruzione, gli indicò col capo la posizione. «Perché sprecare fiato con uno così?» L'investigatore fece spallucce. «Le belle donne sono stronze, no?» E senza a sua volta aggiungere altro risali sulla strada. Percorsi una trentina di metri si imbatte in un Mercedes-Benz G64 AMG nero, un giocantolo da 5 litri e mezzo di cilindrata. Come lo sapeva? Era la sua passione leggere le caratteristiche delle auto che non avrebbe mai posseduto. Un po' come i lettori delle riviste porno patinate, in fondo. Il mastodontico SUV emanava la stessa aria di annoiata e infastidita superiorità della signora Breton. «Che ci faceva in quel luogo lui un così superbo esemplare dell'ingegneria automobilistica tedesca?» In effetti pareva proprio calato dall'alto per uno spot pubblicitario. Archiviata questa considerazione sul filo dell'estetica, Barrett colse al volo, con un'occhiata, poco più oltre sulla spiaggia, un'incerta successione di pesanti orme maschili che si sovrapponevano ad altre più evanescenti. Badando a non insaccherare il risvolto dei calzoni, sole e vento non avevano ancora riparato ai guasti dell'umidità notturna, si accovacciò per scrutarle meglio. Lo incuriosiva quel continuo accavallarsi di impronte, come se le più piccole sfumassero sempre in quelle giganti, tanto profonde da accoglierle con fare protettivo. Tornò dalla signora, evitando con cura il binario di passi tracciato in precedenza dalla coppia. «Diceva mi scusi?» Butto lì gentile ma distratto. Jack, riprese lei con una leggera punta di stizza e di insofferenza, non mi ascoltava. Tirava diritto verso una macchia indistinta sulla sabbia, qualcosa che non era né alghe né sassi. Man mano che ci avvicinavamo ho cominciato a scorgere un curioso confuso insieme di oggetti. Quelli che vede davanti a lei... Ispettore... Barrett, Phil Barrett, perdoni la cafonaggine, mi ero scordato le presentazioni. Il confuso insieme di oggetti era costituito da un tavolinetto pieghevole e quattro seggiole altrettanto pieghevoli, evidente attrezzatura da picnic. Articoli vecchi, scrostati, qua e là arrugginiti. Parevano lì, Dio sa, da chissà quanto tempo. Sul piano del tavolo, uno straccio stinto, piatti di plastica incrostati, un paio di occhiali da sole e fuori moda, un cappellino estivo da bambina, sgualcito, una bibita agassata con relativa cannuccia, una bambola vissuta, scolorita, con la gonna ripiegata all'insù, a gambe larghe. Mostrava sul misero pube chiazze rosso carminio, vivido. L'investigatore soppesò pezzo per pezzo con attenzione che rasentava la curiosità. Seppure qualcuno aveva scambiato la spiaggia per una discarica, quell'insieme pareva fin troppo ordinato per trasmettere l'idea di rifiuti solidi urbani. Semai suggeriva una fuga improvvisa e precipitosa. Inoltre, in tutti quegli anni, mai nessuno aveva messo piede o anche solo occhio in quel lembo di terra, per quanto remoto fosse ed estraneo alle rotte turistiche? Però non pose domande. Si limitò a sollecitare il dialogo con uno sguardo interrogativo. La donna parve non raccogliere. Continuando a non guardarlo in faccia, proseguì. L'ho raggiunto che quasi mi mancava il fiato. Non per la corsa, ma per l'angoscia che mi stava suscitando il suo comportamento autistico. Jack era fermo di fronte a... a questo quadro. A questa natura morta assurda, irreale. Immobile. Ma scosso da fremiti, forse singhiozzi. Jack, Jack lo chiamavo. Che succede, amore mio? Che fai? Cos'è tutta questa messa in scena? Ma lui niente. Era... era come se stesse vivendo un altro film, nel quale io non ero prevista. Ho cercato di spoterlo per le spalle, ma nemmeno ha dato segno di accorgersene. Allora gli sono corsa davanti. Meccanicamente, l'ispettore vagliò le impronte visibili fra il cadavere e il tavolino. Continuavo a chiamarlo, in preda a una sensazione che sempre più si avvicinava all'impotenza, al terrore. Jack, Jack, mio Dio, che succede? Che cosa ti succede? Perché siamo venuti qui? Perché mi hai portato qui? Stai male? Andiamo via, via da qui. Ho paura. Lui... lui neppure dava l'impressione di sentirmi, di vedermi. Era come se... come se dall'interno del suo corpo due copie di mani gli tappassero occhi e orecchie. Cieco, sordo e muto. Ho pensato... anche se pensare in quel momento mi costava più fatica che scalare l'Everest senza bombole di ossigeno. Ho pensato che avesse avuto un ictus o qualcosa del genere, ma non poteva essere perché lui... lui tremava sempre di più. Fissava la bambola come inebetito. Sembrava sul punto di parlare, e però erano i suoi occhi a urlare per lui. Ispettore, non sono una persona colta, ma... ha presente l'urlo di Munch. Mi sono girata di scatto per vedere se alle mie spalle succedeva qualcosa, ci fosse qualcuno, niente, nessuno. Volevo avvicinarmi a lui, scuoterlo, strapparlo da quello stato di terrore ebete e senza ragione, ma... mi sentivo... ero bloccata anch'io. Vittime di un incantesimo. Avevo l'impressione di essere fuori dal mondo, dal tempo. Sospesa in... in un set cinematografico. Sì, convenne fra sé l'ispettore, immagina azzeccata. Accarezzò nuovamente con occhio smaliziato tutti gli elementi di scena. Niente fuori posto, come i capelli di una diva appena uscita dal parrucchiere. Non era certo stato il vento a indossare i panni dell'attrezzista scenografo. Nulla salsedine del mare a rosicchiare la plastica di sedie e tavolino a schizzarli di ruggine. Harris, dunque, covava menti così raffinate da poter eguagliare un qualche maestro del terrore? Chissà che ne avrebbe saputo trarre uno Stephen King, o chissà come avrebbe trovato il tutto stucchevole, di maniera perfino. Già, dove corre l'impalpabile confine tra genio e banalità? Si riprese subito da queste divagazioni a fondo perduto. Guardò il mare di un blu quasi tetro, laggiù dove si era ritirato in attesa del prossimo assalto. Sbuffava placido, con il ritmo dell'inesorabile dell'eterno. «Ah, no, tu non c'entri, anche se fai il sorgnone!» Ho mosso un passo verso Jack. La donna adesso aveva una voce stanca, priva della scostante arroganza di poco prima. E lui, sempre senza vedermi, è arretrato barcollando prima di cadere all'indietro. Così, come lo vede, con quella maschera stampata sulla faccia, senza aver pronunciato una sola sillaba da quando è sceso dalla macchina. Tacque, gli occhi protetti dalle palpebre abbassate, le braccia strette a cingere il seno. Lasciò che il silenzio desse al suo racconto un tono definitivo. Tale almeno parve a un cupo Barrett. A sua volta, silenzioso per un lungo tratto, lo sguardo fisso su quello specchio d'acqua che pareva sfidarlo beffardo. «Lo so. Tu, invece?» «Chi guidava la Mercedes?» «Jack, gliel'ho detto poco fa. Potrebbe almeno ascoltarmi quando parlo. Mi scusi, la conclusione del suo racconto mi ha distratto dai pensieri precedenti». Lo ignorò totalmente. Voleva sempre guidare lui, anche se si affaticava molto negli ultimi tempi, soprattutto su strade come queste, dove non parrebbe molto consigliabile aggirarsi con simili dinosauri. Senza offesa, per la vostra superba auto ci mancherebbe. Pausa. Chi ha scelto la meta del viaggio di nozze? Ho l'impressione che lei non dia molto peso alle mie parole. Gettò lì quasi beffarda. «Gne ne ho già parlato, signor ispettore. Mio marito amava queste terre. Gli piaceva la loro asprezza, la quasi totale assenza di elementi umani, e poi lo riportavano all'adolescenza, quando le aveva frequentate per alcune estati con un gruppo di amici. La G64 è vostra o è noleggiata?» «Presa a noleggio dalla Herza. Noi abbiamo l'ammiraglia della Mercedes, poco adatta a questi viaggi, a questo genere di strade. Chi la scelta?» «Ispettore». La donna scattò in piedi quasi la sedia se fosse d'un tratto arroventata. «Questo è un interrogatorio. Io, io, come si permette? Nella mia condizione, senza un avvocato. Poi, mi scusi, signora Breton. Ha ragione, le chiedo sinceramente scusa. Deve essere l'atmosfera che si respira qui, in questo luogo, agisce come un elemento di disturbo. E concluda il suo racconto, la prego». Tornò a sedersi, componendosi vestito e capelli. Quando l'ho visto piombare a terra, mi sono gettata su di lui, chiamandolo, urlando «Jack! Jack, apri gli occhi, parlami! Jack, per l'amor di Dio!» Mi devono aver sentito anche le onde d'allargo. Io, invece, non sentivo più il suo respiro, i battiti del cuore. Mi son dovuta quasi prendere a schiaffi per sottrarmi allo stato di catalessi che mi teneva prigioniera. Ho cominciato a praticargli il massaggio cardiaco, prima con delicatezza, poi sempre più energicamente. Negli ultimi tempi aveva avuto disturbi. Mi ero fatta mostrare come si fa. Sono arrivata allo sfinimento, ma poi ho dovuto arrendermi. Continuavo a non percepire più il cuore. È trascorso dell'altro tempo, perché mi sentivo del tutto vuota, incapace di qualsiasi forma di reazione. Avrei voluto restare qui per sempre, sdraiata al suo fianco, aspettando che una marea più turbolenta delle altre ci prendesse insieme e insieme ci desse sepoltura negli abissi marini. Parve sul punto di piangere, ma si riprese presto. Ho afferrato il cellulare e ho composto il numero d'emergenza chiedendo un'ambulanza. Non sapevo di dover avvertire anche la polizia. Infatti non era tenuta a saperlo, come vede hanno provveduto loro. Quando c'è di mezzo un morto in una situazione così... così come, scusi. Cosa vuole insinuare? Una scheggia di vetro non sarebbe stata più tagliente. Proprio niente, mi creda. È la situazione in sé che è anomala. Se lei avesse richiesto un'ambulanza per un decesso da presunto infarto avvenuto in casa sua, a nessuno sarebbe venuto in mente di convocarci. Ammetterà che almeno sul piano formale non è la stessa cosa. Comunque si tratta solo di una formalità, in un certo senso. Per ora basta. Se avrò bisogno di lei, in via del tutto ipotetica, sia ben chiaro, dove posso rintracciarla? La fresca vedova, immusonita, gli porse un biglietto da visita. Barrett lo intascò e le tese la mano. Mi scusi il disturbo e tutto il resto, ma lei capisce, il lavoro è lavoro. Ancora condoglianze e... coraggio. Trattenne la mano di lei per un attimo di troppo senza nemmeno capirne il motivo. Quando se ne accorse, arrossì leggermente. Aspettò che Juliette Breton si allontanasse dalla scena con una falcata degna di una top model. Poi l'ispettore chiamò il fotografo e gli diede indicazioni precise. Brian O'Nolan, questo il suo nome, procedette con una meticolosa scrupolosità e precisione, perché a quell'ora del giorno la sua dedizione alle proig corte casque ancora non iniziava a far capolino. E i suoi scatti ignoravano anche il solo concetto di mosso. La luce al neon dell'ufficio cominciava a fondersi con il biancore dei primi attacchi di sonno. Lampi improvvisi che anziché gettare luce, gettavano nello sconforto perché facevano smarrire il filo dei pensieri. Scolò l'ultima tazza di caffè amaro, l'ispettore Barrett, poi si trascinò in bagno per scrostarsi dalla faccia un po' di appannamento. Lasciò scorrere l'acqua finché non raggiunse la temperatura che desiderava. Quegli schiaffi gelidi lo riportarono alla veglia senza tanti complimenti. Non era sua abitudine fare orari tanto notturni. Nelle ebridi esterne anche la vita scorreva rispettosa dei rigidi dettami calvinisti. Non succedeva mai niente. Niente che meritasse una deroga all'ora canonica della ritirata. Anche adesso lo prendeva un senso di angoscia se ripensava quella prima domenica, appena piovuto qui dalla madre Scozia, quando aveva scoperto che in queste terre, che parevano abbandonate da Dio, il giorno del Signore era l'equivalente del Shabbat ebraico. Nemmeno le foglie si permettevano di stormire perché il vento mai avrebbe osato sollevarsi. Perfino i gabinetti pubblici restavano chiusi. Stavolta, però, non riusciva a mettere nel cassetto e chiudere sotto chiave per la notte i dubbi, gli interrogativi, le inquietudini che gli si erano abbarbicate addosso come ed era in calore. Pareva che il mare gli avesse depositato sui piedi, sulle gambe, fasci di alghe appiccicose, che gli rendevano impossibile muovere un passo, almeno in direzione della camera da letto. Tornò a sedersi alla scrivania, davanti alle foto stampate da Brian. Formato A4, per cogliere meglio i dettagli. Portenti digitali! Non era un fan della tecnologia, lui, ma sapeva apprezzarne certi risvolti. Come non bastasse, l'agente fotografo gliele aveva scaricate tutte sul computer. Se vuole ingrandire, basta che clicchi sul più qui in basso a destra. Facile, no? Sempre tutto facile per lui. Barrett osservava e comparava le immagini di quelle impronte che movimentavano in gran numero la spiaggia nei paraggi di tavolo e sedie, troppe e troppo confuse. Secondo logica, il racconto della vedova, brividi al pensiero di una vedovanza da 25enne, filava tutto liscio. Il dottor Kilder aveva diagnosticato con sicurezza il decesso per infarto e non c'era motivo di credere che l'autopsia avrebbe stravolto il suo referto. Il vecchio Bob non si ubriacava mai prima di cena. Che Jack O'Neill fosse morto d'infarto non destava il minimo stupore, nonostante l'età ancora giovane. Con quella mole spropositata, il suo cuore si sobbarcava almeno 16 ore di straordinario al giorno, senza ferie e giorni festivi per giunta. Un sorriso maligno gli attraversò la mente. Una venticinquenne con cui il fisico poteva scatenare un infarto in un cinquantenne obeso represse subito la cattiveria. Mica era morto nel letto il signor marito e non c'erano proprio indizi per pensare a un indigesto rapporto sessuale consumato in spiaggia. Eppure quelle orme, quelle peste parevano raccontare una storia diversa, più confusa. Le suole del gigante davano l'impressione di sovrapporsi a quelle della fanciulla e non viceversa, anche se l'andamento era irregolare. Se la donna si fosse trovata alle spalle dell'uomo, a un certo punto le orme più piccole si sarebbero dovute scostare da quelle grandi, affiancarle e poi proseguire. La sabbia non raccontava questo. Inoltre, scrutando con attenzione l'ingrandimento nei pressi del tavolo, l'andamento dei passi femminili segnalava che la donna era arrivata proprio fin lì, prima di girarsi e tornare indietro. Allora, perché la bocca raccontava una storia diversa da quella dei piedi? Perché mentire, se a uccidere era stato un evento naturale? Le ultime tracce dell'uomo erano molto confuse. Lasciavano trasparire una grande indecisione, una lotta interiore, uno stato di grave impaccio. No, qualche conto non tornava. Il sonno lo colse come un fulmine a ciel sereno. Durò poco, probabilmente per la posizione scomoda, dato che si era appisolato alla scrivania, forse per la marea di pensieri che gli fluttuavano nella scatola cranica. Andò in bagno a sciacquarsi nuovamente la faccia con manate di acqua gelata prima di uscire dal commissariato e salire in macchina. Si intuiva la discreta presenza della luna da qualche parte, magari anche piena. Ma le nubi la circondavano e velavano con la devozione di ancelle che proteggono la loro signora e padrona da sguardi indiscreti mentre si lava in un placido ruscello. Non fu un viaggio breve raggiungere quella spiaggia da Stormway. Fortuna che la notte quella strada era assolutamente deserta. Anche i fantasmi, noti frequentatori delle tenebre scozzesi, parevano non gradire quel genere di desolazione. Lui, invece, che ci stava andando a fare? Non lo sapeva. Stava solo assecondando un impulso. L'alta marea, svolto il suo compito, si era da poco ritirata. La sabbia non conservava più traccia delle impronte del giorno prima. Il transennamento dell'area non aveva certo inibito al mare i consueti percorsi e in così breve tempo nemmeno il più valente agile fra gli olandesi sarebbe stato in grado di edificare una diga capace di tenerlo alla larga. Barrett ammirò, inspirandola, la bellezza astruggente di quell'alba che gareggiava in candore con la schiuma rimpallata dalle onde e con la sabbia della spiaggia senza confini. La superficie delle acque era placidamente ondulata, con un andamento sonnacchioso che quasi lo coinvolgeva. Scese con cautela verso il tavolo. Fissava ora dove metteva i piedi ora il mare. Lui sapeva, aveva visto tutto, ma non parlava, muto come i suoi pesci. E che ti costa darmi una mano? Giuro, non lo dirò a nessuno che hai collaborato con i piedi piatti. A fianco di una seggiola qualcosa attirò la sua attenzione, perché rifletteva uno smunto raggio di luna. Si chinò a raccoglierlo, con molta cautela. Era un elegante ferma capelli in osso, intarsiato d'argento. Al centro due lettere e dorate in un carattere raffinato. Lo tenne un attimo, sospeso contro il cielo. Poi lo asciugò con il fazzoletto, ve lo ripose e lo ripose in una tasca del giubbotto. Sorrise amaramente. Guardò il mare che bofonchiando ritirava lemme lemme i tentacoli dalla ciclopica spiaggia dopo l'ennesimo amplesso notturno. Non si annoiava mai? Posò un bacio sul palmo della mano e lo soffiò nella sua direzione. Non ricevette nessuna risposta, ma non se ne ebbe a male. Quella che contava gliel'aveva già data. Signora Juliette Breton. Il tono era molto formale, senza più tracce di partecipazione al cordoglio. Riconosce questo oggetto come suo? La fresca vedova aveva avuto tempo e modo di effettuare una sapiente e consolidata manutenzione del suo look. Sfoderava una bellezza altezzosa e infastidita. Ricevette quasi con degnazione il fermacapelli dalle mani dell'ispettore. L'aveva convocata in commissariato nel primo pomeriggio con la scusa di firmare un verbale. Un'ultima piccola formalità burocratica. Mi vorrà scusare. Uno sguardo alle iniziali J.B. e un altro a Barrett la convinsero che la risposta giusta era «sì, è mio». M'ero accorta di non averlo più e un po' mi dispiaceva perché era uno degli ultimi regali di Jack. Grazie». Barrett percepì gli occhi che quasi gli si dilatavano per la sorpresa. «Dove l'ha trovato?» «Sulla spiaggia di Harris, vicino al tavolino». La fissava diritto negli occhi, quasi un innamorato, ma con diverso trasporto. Se ne rese conto anche la donna. «Grazie», ripeté asciutta e con forzato garbo. «Allora vuol dire che mi deve essere caduto dai capelli ieri e non me ne sono accorta, forse mentre praticavo il massaggio cardiaco a mio marito». L'ispettore raccolse dalla scrivania alcune fotografie e le mostrò in sequenza alla indifferente Juliette. «Queste le ha scattate ieri il nostro fotografo, non appena lei se n'è andata. Vede da sola che il ferma capelli non c'è in nessuna di esse». «E questi?» glieli indicò. «Sono ingrandimenti. Se anche fosse finito sotto la sabbia, lo evidenzierebbero. Non c'era proprio ieri il fermaglio. Questa mattina sì». Lasciò che il suo silenzio spingesse la vedova a sentirsi a disagio fino a sciogliersi. «Sarà stato un po' più in là, cosa vuole che ridica?» «O pensa, tono sarcastico, che ce l'abbia messo io la notte scorsa. Né lei né io l'abbiamo portato lì la notte scorsa. È il mare che gliel'ha restituito, forse non facendole proprio un favore, viste le circostanze. Ma che va dicendo? Che va dicendo? Che c'entra il mare adesso? Che c'entra questo fermaglio con la morte di mio marito?» «Me lo dovrebbe dire lei, cara signora. C'è una sola spiegazione possibile per il ritrovamento del suo fermacapelli». Glielo tolse delicatamente di mano, poi glielo mostrò. Era lì dalla notte precedente. Dalla notte precedente il decesso del signor Jack O'Neill. «La marea se ne deve essere innamorata. Ha cercato di portarselo a largo, ma poi ha desistito. Si sarà pentita, chissà, e ce l'ha restituito la mattina seguente. Signora Breton O'Neill, che ci faceva lei su quella spiaggia la notte precedente la morte del signor O'Neill». Belliz, fascino, seduzione, si eclissarono dal volto della giovane Venere. Si trasformò in un aerinio ululante che malediceva l'ispettore, il suo fotografo e tutta la polizia inglese. «Scozzese, please», ci tenne a precisarle un imperturbabile Barrett. Sbraitava di avvocati difensori, di ambasciatori, di convenzione di Ginevra. La testa, con il cervello dentro, era scivolata via da lei insieme al costume da dea della bellezza. «Signora Breton, le conviene calmarsi, con gli insulti e gli strilli non si va da nessuna parte. Lei non è accusata di niente, le sto solo chiedendo di raccontarci la verità, di spiegarci perché è andata in quella spiaggia di Harris due notti fa. Se non ha niente da nascondere, tutto si risolverà in breve tempo e senza problemi. La prego». Sedette. Anzi, si accasciò sulla sedia che lui le porgeva, con la testa in avanti, i lunghi capelli corvini a celarla al mondo. Pareva scossa da sussulti irregolari che, però, non si traducevano in singhiozzi o, se tali erano, restavano afoni. Dal velo dei capelli traspariva che si stava torcendo le mani come in preda a un conflitto interiore. Rimase così per una decina di minuti, durante i quali l'ispettore ritenne opportuno non sollecitarla. Quando tornò a guardarlo, era un'altra donna. Il doppio degli anni, i tratti somatici sfigurati dall'odio, da un ghigno feroce. Una bellezza demoniaca, ma priva della bellezza. «No, non ho niente da nascondere». La voce era gelida, tagliente. Barrett fece cenno all'agente Campbell di mettersi al computer e cominciare a scrivere. «La scena era la stessa. L'ho qui davanti agli occhi come fosse ora. Le palpebre calate come due saracinesche. Anche gli oggetti gli stessi. Li aveva messi da parte papà, come sempre. Io me ne impossessai molto tempo fa, lasciando poi che il tempo li intaccasse. Tutto uguale a quel giorno, tranne me. Avevo dieci anni io all'epoca. Era una bambina ingenua. Giocavo ancora con le bambole, credevo a Babbo Natale. Ebbe un fremito in tutto il corpo, mentre mandibola e mascella si contraevano per impedirle di piangere. Venivamo qui, sull'isola tutti gli anni a giugno, perché papà adorava quella spiaggia enorme, le maree e gli piaceva che ci fosse quasi nessuno. Aveva scoperto le ebridi durante la guerra. Quel pomeriggio, quel pomeriggio non c'era nessuno. Noi avevamo mangiato al nostro solito tavolino, poi mamma e papà erano tornati nella roulotte a dormire. Avevano detto. Tu resta pure in spiaggia, che oggi è una bellissima giornata. Io giocavo tranquilla. Vi dico e l'uomo. Le labbra vibrarono come divorate da una febbre estrema. Quando era già vicino a me. Non l'avevo mai visto prima, eppure mi diede subito l'impressione di essere buono. Ero ingenua, gliel'ho detto. Mi parlò del mare, dei pesci. Mi invitò a fare il bagno con lui. Non ci trovai niente di male. Non conoscevo ancora la malizia. Avevo l'acqua alle ginocchia. Quando mi prese. Mi tappò la bocca. Con una mano. Con l'altra mi strappò il costume. E poi... Non c'è più niente in quegli occhi. Nemmeno odio. Vuoto e basta. Da allora odio il mare. Adesso ancora di più, pensò Barrett. E ho odiato quel... quel bastardo figlio di puttana. Lui nel darsi a una fuga precipitosa perse il portafoglio in spiaggia quel giorno. Lo vidi e lo teni io. Non dissi niente a papà e mamma. Pulì da sola il sangue. Piansi da sola per tante notti. La mamma attribuì il mio malumore alla prossimità dell'arrivo delle mie prime mestruazioni. Che invece non vennero mai. Crebbi. Cercai notizie di... di Jack O'Neill. Lo trovai. Lo seguii. Non l'ho persi più di vista. Nel frattempo ero diventata una superba gazzella di vent'anni. In grado di far uscire di strada anche un ricco avvocato come lui. Avevo fatto di tutto per sviluppare un corpo impeccabile e seducente. Mi inserì nella sua vita. Entrai nel suo studio. Lo sedussi. Lo feci sbandare totalmente. Perse la testa. Mollò la moglie e divorziò. Mi sposò senza mai sospettare di niente. Era completamente fatto. Durante il fidanzamento e la convivenza lo misi all'ingrasso. Cosa non difficile. Amante com'era della buona cucina e del buon vino. Tanto che era già robusto di suo. Lo stimolavo a mangiare, bere e fumare perché poi fare l'amore diventava ancora più eccitante. Si beveva tutto. Il coglione. Gli ci volle poco a diventare cardiopatico. Perché naturalmente, a differenza mia, odiava frequentare palestre e praticare qualsiasi genere di sport che non fosse l'equitazione da letto. E lui faceva il cavallo. Ovvio. Per il matrimonio organizzai il viaggio di nozze qui. Sapevo che a lui piaceva tutta l'area, anche se non la frequentava da un pezzo. E per parte mia gli dissi che avevo letto di maree e di spiagge spettacolari. Non mi diceva di no su niente. Campbell annotava diligentemente sotto lo sguardo di un Barrett che pareva quasi disinteressato al drammatico resoconto della signora Bretonna. Spedì in segreto all'albergo di Stormway gli oggetti che avete visto in spiaggia. Due sere fa lo feci ubriacare. Lo mesi a letto, poi caricai tutto in macchina. Andai alla spiaggia, disposi ogni cosa come quel giorno. Di pinsi di rosso vivace il pube della bambola. Ero talmente presa che non mi accorsi che quel dannato fermacapelli mi era caduto. Fu io il giorno seguente a chiedergli di fermarsi proprio in quel punto, con la scusa di ammirare la spiaggia. Corsi davanti a lui incitandolo a seguirmi, con la promessa di una scopata travolgente al limite della marea. Era già in affanno per la guida impegnativa e per l'eccitazione, ma volle ugualmente correre a modo suo. Pareva un leone marino. Lo scherno negava ogni sentimento di pietà o rispetto per il morto. Arrivai al tavolo, afferrai la bambola e gli andai incontro, divaricandole le gambe. Jack O'Neill. Ricordi? Quindici anni fa. Più o meno questi giorni. Una bambina di dieci anni, francese. Questo tavolo, queste sedie, i piatti sporchi. Vidi che cominciava a ricordare. Probabilmente non ero stata l'unica, anche se poi probabilmente era guarito. Jack O'Neill. Tu mi hai tolto l'infanzia, l'adolescenza, la gioventù, il sorriso della vita, i sogni. Adesso io ti tolgherò la vita. Avanzai verso di lui con un coltellaccio da cucina in mano, alzato sopra la mia testa. Ma sapevo che non sarebbe stato necessario usarlo. Avevo letto l'esito delle sue ultime analisi cliniche. L'hanno ucciso. L'odio fu ribondo dei miei occhi. La paura dello scandalo imminente, se non l'avessi ucciso. Non certo la vergogna o il senso di colpa. L'ho lasciato rantolare fino alla fine. I miei occhi vissi nei suoi. Perché si rendesse conto fino all'ultimo respiro, che lo stavo lasciando morire. E ne godevo. A cose fatte ho chiamato il numero di emergenza. Tacque, ormai priva di motivi per continuare. Sembrava sollevata, ma indifferente a tutto. Squillò il telefono. Barrett rispose. «Sono io, dimmi». Lunga pausa di silenzio, almeno un paio di minuti. Poi «Grazie, sapevo di poter contare su di te». Guardò quasi ammirato la giovane bellezza, che nel frattempo pareva aver recuperato almeno in parte la sua alterigia. «Signora Breton, mi permetta in primo luogo di complimentarmi con lei per la sua perfetta interpretazione, drammatica e convincente». La fresca vedova strabuzzò gli occhi. La bambina che fu stuprata da Jack O'Neill nel giugno di quindici anni fa si chiamava, lesse un appunto, Françoise Nielli. L'abbiamo rintracciata perché il suo ex marito fu condannato a cinque anni per presunta violenza carnale su minore. Presunta, ovvio. Sa, gli avvocati. Non fece un solo giorno di galera. Françoise ha confessato tutto senza farsi troppo pregare. Come vi siete conosciute, la sua incapacità di vendicarsi in prima persona. Come invece lei, Juliette, le ha proposto di venderle la vendetta in cambio del matrimonio e del patrimonio di O'Neill, perché lei ovviamente era certa di impietosire i giudici, puntando anche sulla sua fascinosa bellezza. Se il mare non ci avesse restituito il suo ferma capelli, lei sarebbe diventata una giovane, affascinante, ricchissima vedova. Forse senza nemmeno vedere il carcere. Se ora mi vuol raccontare come realmente sono andate le cose.